Ah, che rasta di giornata vera, ragazzi. Eh, cosa sarei io che muoce lungo? Niente. L'altro giorno mi è successa la roba. Cosa ti è successo? A ieri a casa che guardavo la televisione, no? E a un certo punto ha suonato il campanello della porta. Salve, Luca Gualtieri? No, Luca Gualtieri è mio figlio, io sono il padre. Ah, perfetto, non ho sbagliato la porta allora. Ora, ascolti, questo pacco sarebbe per suo figlio, avrei bisogno di 50 euro per consegnarlo direttamente a lei. Informare per prevenire, denunciare per non rimanere in silenzio davanti al raggiro. Sono questi i principali obiettivi della nuova campagna Sicuri di essere al sicuro, lanciata dal comune di Pesero per attenzionare il fenomeno delle truffe perpetrate soprattutto ai danni della cittadinanza più anziana. Nasce con una campagna nazionale partita dal ministero degli interni, che ha coinvolto poi le prefetture e le amministrazioni locali. E Pesero è tra i 50 comuni che hanno ottenuto queste risorse e questo finanziamento per sviluppare dei progetti con l'obiettivo di contrastare, informare e prevenire le truffe nei confronti delle persone, in particolare degli anziani, delle persone più fragili, ma più in generale di tutto, insomma di tutti. Questo progetto è stato sviluppato un po' durante il periodo del Covid, eravamo io insieme a Massi Santini, l'assessore Sara Mengucci, la comandante Francesca Muzzini della Polizia Locale e insieme abbiamo pensato a quale fosse il modo migliore per sviluppare dei progetti proprio per contrastare un fenomeno che è anche molto attuale. Attuale perché purtroppo anche in questi giorni stiamo sentendo di tentativi, di truffe che vanno spesso anche a buon fine nei confronti delle persone più anziane. E quindi fare una campagna di sensibilizzazione e di informazione nei confronti per evitare che questi episodi, che sono molto antipatici, perché oltre al danno economico finiscono anche per generale dei danni psicologici alle persone, perché la sensazione di essere truffati spesso è peggiore della truffa stessa. E quindi cercare di far sì che questo sentimento non diventi sia anche un modo per fare denuncia ed evitare che altre persone si possano trovare in quella situazione. Abbiamo cercato di far vivere questo video nel quotidiano, quindi far vivere queste scene proprio come se fossero realtà quotidiana e due amici che parlano tra loro e raccontano un po' le esperienze che hanno vissuto e attraverso appunto questo tentativo di truffa purtroppo uno è anche riuscito. Devo dire anche che questo progetto nasce anche dalla necessità che abbiamo avuto a seguito dell'emergenza Covid con un aumento comunque delle truffe di vario tipo, soprattutto anche online, e quindi abbiamo avuto questa necessità come amministrazione di lanciare questo progetto. Un progetto che attraverso il video, attraverso anche dei piano informativi, vuole essere di sensibilizzazione e anche di informazione su come possono avvenire le truffe e su come anche si può essere truffati, perché i truffatori sono veramente abili, molto furbi, molto scaltri e si immedesimano in operatori sociosanitari, venditori, insomma in tante professioni. Credo che sarebbe una scuola da fare addirittura, perché gente come me che arrivati a una certa età hanno difetti di memoria, non si sanno comportare di fronte a un'evidenza così. sembra che sia una cosa impossibile, ai tempi nostri, ai tempi miei, io ho 93 anni, ai tempi miei era meno frequente, qualche furtarello così in giro, ma se no non se ne sentivano, insomma, di gente che andava a rubare. Se ti è capitato anche a te, non ti sei la vergogna, tieni in mente che chi sa la vergogna, le illedre.